minchia cosa c'è sta devo concentrare andatemi davanti alla tele più vicino no zio cane no si ma son destinato parco 2 madonna gb tu hai visto no ma è incredibile no pazzesco sono una difficoltà mai vista su questo schema qua no ma è incredibile madonna che schifo madonna faccio uscire me lo salvo per